Una lettera al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa per chiedere l'istituzione del punto zero Vallo di Diano per misurare e monitorare i parametri ambientali di un territorio incontaminato come quello del parco dove però si registrano numerosi malati di tumori. Ad inviare la richiesta è stato il meetup Amici di Beppe Grillo di Sala Consilina rilanciando un tema che era aggiunto all'opinione pubblica dopo la diffusione dei dati della cooperativa Parmenide e l'interrogazione parlamentare del senatore dei 5 Stelle Francesco Castiello. Il Movimento 5 Stelle ha tra i suoi obiettivi primari la protezione dell'ambiente scrive al Ministro Giuseppe Di Giuseppe, organizzatore del meetup è dalla qualità dell'ambiente che dipende allo stato di salute di una popolazione ed è un compito molto complesso valutarne l'impatto di diversi fattori. Nel Vallo di Diano, pur non essendoci grandi impianti industriali o di incenerimento dei rifiuti apprendiamo dai media che nell'ultimo decennio un numero preoccupante di persone continua ad ammalarsi e morire per malattie oncologiche. Con l'istituzione del punto zero Vallo di Diano si potrà effettuare un'azione di controllo e di denuncia per scongiurare e arginare scelte che vanno contro la salvaguardia dell'ambiente. Nello specifico, l'iniziativa proposta consiste nell'effettuare misurazioni delle matrici ambientali il che significa acquisire ad una determinata data i livelli di inquinamento di specifiche zone del territorio e partendo da questi dati di riferimento monitorare poi l'eventuale deterioramento della qualità dell'acqua, dell'aria, del terreno, della flora e della fauna al fine di poter pianificare eventuali interventi di bonifica ambientale. Di qui dunque la richiesta di sostegno al Ministro dell'Ambiente Costa.